Benvenuto in trepore Oggi, sì, sarò la tua barbiere Ciao, ciao, benvenuto in trepore Oggi, sì, sarò la tua barbiere Allora, cosa volevi fare? Ok, togliere la barba E poi una piccola spuntatina Ok, va benissimo, perfetto Direi quindi di cominciare col mettere la mantellina Così che non ti cadano tosso né capelli né barba E non ti sporchi Ok, va benissimo Ok, passo ad abbottonarmi Perfetto, perfetto Fammi sapere se te l'ho posizionata bene Ok, allora, quindi Visto che facciamo questo aggiustamento di barba Prendiamo ovviamente la cosa principale Ecco qui La schiuma E la andremo mettere nella schiuma E la andremo mettere nella schiuma guarda, sembra panna prenderò il mio pennellino 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 ok, se sei pronto inizio a spalmarti la schiuma prenderò il mio pennellino 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 Sì 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 Ok Direi che la schiuma può bastare Ok Adesso andrò a passarti la lametta Sì pronto Ok Ok Stiamo togliando tutti I peli della tua barba Ok Perfetto Li abbiamo tolti Tutti Tutti Bene Adesso Ovviamente vorrei sciacquarti il viso Così togliamo bene tutta la La schiuma Quindi se riesci ad abbassarti E ovviamente chiudi gli occhi In modo tale che possiamo Pulire bene tutto E' 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto. Adesso possiamo benissimo asciugare. Vieni qui che ti asciugo. Perfetto. Se vuoi puoi guardarti allo specchio dietro di te. Sì, è vero, diventa super super liscia. Bene, adesso quindi, visto che volevi fare una piccolissima spuntatina, la andremo a fare. Certo, non preoccuparti assolutamente. Ecco qua, sono pronta e andiamo a fare questa spuntatina e mi faccio aiutare anche dal più pettinino, ok? Perfetto. 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 Iscriviti al nostro canale bene anche in questo caso se vuoi guardarti allo specchio vuoi farlo tranquillamente cosa ne pensi? ok ora prima che tu vada via volevo mettergli questo piccolo asierino se molto piccolino è fatto posta per per te questo qui possiamo metterlo appunto dove abbiamo tolto la barba e serve per rinfrescare la pelle soprattutto mantenerla super morbida visto che hai tolto i peletti e bisogna ritratare la pelle visto quanto è carino, vero? molto piccolo e a a a a Grazie a tutti. Ok? Te ne vado a mettere un po' su. Su entrambi i lati. Ok, direi che quindi possiamo andarlo a spalmare. Ok. 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 Senti già la differenza? Come dice alla tua pelle. Certo. Perfetto. Qui abbiamo fatto. E se vuoi togliere la mantellina finalmente adesso. Perfetto. Perfetto. Sei contento? Ti piace? Sì. Per la prossima volta non preoccuparti. Non c'è bisogno di prendere appuntamento. Puoi venire e facciamo quello che hai bisogno di fare. Va bene. Allora, buona giornata. Grazie per averci scelto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Eccomi qua amici. Oggi abbiamo fatto questo piccolo roleplay che era da tanto, tanto, tanto che volevo provare a fare. E ok. Non sono soddisfatta proprio così tanto, tanto, tanto. Però mi è piaciuto registrarlo, insomma. Anche perché mi piace tantissimo la schiuma. Mi piace fare trigger con la schiuma. Quindi è stato molto divertente metterla, oddio ce l'ho qua ancora, qui dentro. Che poi non so neanche cosa mi sembra vederlo così. Però è molto divertente perché in realtà questo è tipo ciotole di cocco che servono per le bowl quando si mangia. Ma ho deciso di usarla in questo modo. Spero che abbiate apprezzato. E soprattutto spero vi piaccia un po' il tutto. Anche se magari il video non è venuto neanche così lungo. Ma spero che questo possa essere un modo per me ogni volta di migliorarmi. E quindi ovviamente quando continuerò a fare ASMR magari tra due anni ci sarò un altro video. Barbershop. E sarà molto più bello magari. Quindi sarà molto più elaborato. Quindi magari vedremo le varie differenze. Anche perché credo che un po' tutti ogni mese che passa quindi c'è un piccolo miglioramento. Detto questo volevo solo salutarvi perché diciamo che sì mi piace fare il roleplay. Quindi iniziare il video direttamente basandomi su quella cosa. Però poi mi dispiace non dire due paroline. Quindi niente detto questo vi mando un grosso grossissimo bacio. Ci vedremo mercoledì prossimo con un nuovo video. Mentre per il resto dei giorni se volete mi trovate su IG e su TikTok come grazie ASMR. E mi trovate in live quasi tutti i giorni. Grazie per l'attenzione. Ciao, alla prossima.